Bellissimi siete, fantastici da vedere! Finalmente i lenti, perché senza lenti non c'è amore e senza amore non ci sono figli! La verità! Vai! Il mio recetto è un'attività, lo ricordate sicuramente! E' un'attività che vado a cantare! E' un'attività che vado a cantare, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalla che spremute in i cuori, farà sempre sentire contante, dalle il meglio per il meglio che hai! Cerca che essere un bene romante, sia sempre presente, risolvi le guai! E' stato sicuro che ti lascerà, che è troppo amato, amore e non dà! E' stato sicuro che ti lascerà, chi me lo ama è più forte! Prendi una donna, rampa la mano, e lascia che ti aspetti per l'ora, non fatti il pivore! E quando andiamo, farlo come forse a favore, fa sentire che sono importanti, Cosa bene, amore e l'uventà, cerca di essere un bene romante, ma poi arretto, nessuna pietà! E allora si vedrà che calmerà! Llegerà una moto di amore e di volontà, e allora si vedrà che calmerà! Llegerà una moto di amore e di volontà, e allora si vedrà che calmerà!